Salve, sono Carmelo Gulino, titolare della ditta Iblea Piscine, con sede a Ragusa in Viale dei Platini numero 140, la ditta realizza l'autopiscina con i seguenti metodi di costruzione, in cemento armato, con casseri di polisterolo, armature in ferro e getto in calcestruzzo o con pannelli in acciaio. Realizziamo anche piscine con idromassaggio, riscaldate e anche con nuoto controcorrente, sia per interno che per esterno. Vi aspettiamo per qualsiasi informazione o e sicuramente io ho nella nostra zeta. Grazie a tutti.